Si è svolto ieri presso la struttura di Locrio Nice un concerto di Natale armonicamente insieme suoni e ritmi dalla Calabria all'Europa in una festosa atmosfera natalizia alla presenza di tanti giovanissimi ma anche di coloro che hanno deciso di trascorrere un Natale all'insegna dei suoni e ritmi tipici della nostra tradizione calabrese che però dà uno sguardo all'Europa come ad esempio il suono delle nostre zampogne che a certe latitudini acquista una tipicità tutta da scoprire Noi come ogni anno a Liceo Mazzini organizziamo un saluto natalizio che viene alliatato dal nostro coro, dalla professoressa Anna Maria Pizzati in particolare con il professore Francesco Gianfranco Ozimo da altri docenti, non sto a nominarlo tutti, anche alcuni che sono in pensione e ci fa grande piacere che ci vengano a trovare ogni anno e collaborano con noi e fanno sempre parte della grande famiglia del Mazzini quest'anno siamo ospiti del Comune di Locri in questa bella manifestazione che si fa in questa piazza e quindi coniughiamo il nostro evento con il Comune di Locri che ci ospita e che ringraziamo voglio ringraziare gli studenti che fanno parte del coro e mandare un caro saluto sia a tutti gli studenti e alle loro famiglie che sia un buon Natale, sereno che porti pace e serenità nelle famiglie e porti tante cose belle anche per il nuovo anno che ci spetta cedo la parola alla mia prima collaboratrice la professoressa Pollifroni è sempre lei che organizza questi eventi mi supporta in modo egregio e quindi gli cedo la parola per fare un saluto anche lei all'amministrazione comunale di Locri a tutta la cittadinanza e soprattutto a tutti i nostri studenti i nostri ragazzi e le loro famiglie e grazie anche a te la mia che è sempre presente a questi importanti eventi Con vero piacere auguro buone feste a tutti ai nostri alunni, ai docenti e all'amministrazione comunale di Locri che ci ospita oggi in questa manifestazione è un momento di grande aggregazione il Mazzini scende in piazza per far vedere quello che è il Mazzini alunni, docenti e genitori insieme per esprimere un augurio di pace e di serenità alla Locri e al mondo intero a tutti i nostri studenti a tutti i nostri studenti a tutti i nostri studenti